Buongiorno e benvenuti al TG2000, vediamo subito i titoli. Mal tempo, esonda il Seveso, bomba d'acqua e allagamenti a Milano, grandinati in provincia e a Varese, disagi in tutta la città, treni fermi per almeno due ore, deviati tanti mezzi dell'ATM. L'esondazione poco prima delle otto di questa mattina, tanti i sottopassaggi inagibili. Turchia, prima preghiera del venerdì a Santa Sofia, stoppa gli accessi per i troppi fedeli presenti, cerimonia solenne tra imponenti misure di sicurezza, atteso il presidente Erdogan che nei giorni scorsi ha parlato di quello che considera un sogno di infanzia diventato realtà. Un gruppo di sei studentesse di un liceo della provincia di Erat in Afghanistan ha creato un prototipo di ventilatore polmonare sfruttando ricambi di automobili che potrebbe aiutare a salvare molti pazienti ricoverati negli ospedali del paese. In apertura dunque parliamo del violento nubifraggio che ha colpito all'alba a Milano, il fiume Seveso lo avete sentito, è esondato e il traffico è andato in TIL. Vediamo allora qual è la situazione adesso con Luciano Piscaglia. Ancora una bomba d'acqua e ancora esondazioni e allagamenti a Milano. Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore del mattino sui quartieri della zona nord della città e dei comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo e come sempre accade i fiumi Seveso e Lambro sono esondati ed hanno allagato strade, sottopassaggi e cantine causando l'esplosione di numerosi tombini. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e auto a passo d'uomo con intere zone isolate e paralizzate. È un disastro e il comune non prende mai provvedimenti a fare una riparazione di sana pianta. Eh sì, certo che è bloccata per la pompa d'acqua, sì, è vero. Qui è sempre, qui fu il mio testo così, sempre è un problema. Allora io ho l'officina qua sotto, qua in Viale Fortis e si è allagato tutto. Quest'anno è già la terza volta che ci allaga. È veramente un disastro, è una cosa fuori dal normale. Si risolverà mai? Mai, mai. Farò in tempo a morire perché ha 80 anni quindi fra poco non ci sarò più e Milano sarà così. Dalle 9.20 in poi l'esondazione di Seveso e Lambro è rientrata e la circolazione anche dei mezzi pubblici ha iniziato a normalizzarsi. I vigili del fuoco sono però ancora al lavoro per liberare sottopassi e scantinati. È ripresa anche la circolazione dei treni dopo una breve interruzione per un guasto dovuto al maltempo in una stazione milanese della rete ferroviaria. Oltre alla pioggia in alcune zone sono cadute anche intense grandinate che hanno causato danni soprattutto alle auto parcheggiate. I mezzi del comune stanno ripulendo le zone colpite dalle esondazioni ma l'allarme resta alto per altri temporali in arrivo. Parliamo adesso del Covid-19 con i contagi ancora in salita. Preoccupano soprattutto i nuovi focolai che sono in aumento in tutte. le regioni. Federico Plotti. Curva epidemica ancora in salita in tutte le regioni italiane. Solo in Val d'Aosta non si contano nuovi contagi. 306 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Questo il dato generale. Lombardia con 81 ed Emilia Romagna con 55. Le regioni con più casi. Questa fase della pandemia in Italia si caratterizza per una sostanziale stazionarietà con un numero di contagiati giornaliero che uscilla dai 2 ai 300 a seconda anche dal numero di tamponi che vengono eseguiti. Questi numeri indicano però una circolazione del virus che anche se bassa è alimentata in parte da focolai che riconoscono casi autottoni e in parte da casi di importazione. L'allarme soprattutto per i focolai che continuano ad accendersi in ogni parte del paese. Nella provincia autonoma di Trento solo ieri 30 nuovi contagi, 24 dei quali collegati al cluster scoppiato in un magazzino del Corriere Espresso Bartolini a Rovereto. Un nuovo focolaio da Covid-19 è stato individuato all'interno di una RSA di Bologna. In tutto sono 21 le persone positive. C'è apprezzione anche a Capri dopo la positività al Covid di tre ragazzi romani tornati da una vacanza insieme ad altri cinque amici. Per ora non ci sono criticità, dice il sindaco dell'isola Cirino Lembo, che con un'ordinanza ha disposto l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto dalle 18 alle 4 del mattino durante il fine settimana. Restano numerosi anche i focolai dovuti ai contagi di ritorno. A Roma, dei 26 casi di ieri, 12 arrivano dall'estero, compresi quelli di due badanti rumene. In vista dei prossimi fondi dell'Unione Europea che arriveranno con il recovery fund, è già iniziato lo scontro politico per deciderne il collocamento, mentre il governo si muove per fare una scelta riguardo al MES. 37 miliardi che arriverebbero nella disponibilità del paese quasi subito da impiegare per potenziare la sanità. Falsi matrimoni combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari sudamericani e nordafricani di ottenere il permesso di soggiorno. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Livorno in un'operazione che ha portato a un arresto e a quattro misure di custodia cautelare. Sarebbero 24 le nozze celebrate dai ignari pubblici ufficiali al comune di Livorno e una a Rosignano Marittimo, al centro dell'indagine delle Fiamme Gialle e della Procura Livornese. Livornese in tutto sono indagate 56 persone, ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i 6 mila e gli 8 mila euro. Andiamo adesso a Piacenza dove oggi sono iniziati gli interrogatori di garanzia dei sei carabinieri arrestati, cinque lo ricordiamo in carcere e uno ai domiciliari. Secondo l'accusa e le intercettazioni contenute nell'imponente ordinanza di 900 pagine sembrerebbero confermarlo, i militari si sarebbero resi protagonisti di pestaggi, spaccio di droga, arresti, illegali, festini con escort. Ma sentiamo il commento del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Ho condiviso con il Comandante Generale dell'Arma tutte le iniziative che il Comandante Generale ha voluto assumere, iniziative in relazione ai provvedimenti, conseguenti ai fatti che sono stati evidenziati e le iniziative volte anche ad approfondire attraverso anche un'attività di inchiesta interna. Se vi sono stati elementi di criticità nei controlli e più complessivamente nell'organizzazione della realtà territoriale. La crisi economica che investe anche il settore immobiliare calano le compravendite, il valore e i prezzi delle case. Vediamo allora il servizio di Giuseppe Caporaggio a seguire il commento del Presidente Nazionale della Federazione Italiana degli agenti immobiliari, Gian Battista Baccarini. Vediamo. Crolla anche il mattone nel nostro paese. La pandemia ha frenato le compravendite immobiliari e le crescenti difficoltà economiche non permettono un recupero nella seconda parte dell'anno. Secondo il rapporto Nomisma, le compravendite dovrebbero attestarsi sotto le 500 mila unità, con un calo rispetto allo scorso anno del 18%. In discesa anche i prezzi, con una riduzione media annua per il 2020 del 2,6% per il settore casa e del 3,2% per il segmento commerciale. Per Nomisma, a tenere dovrebbe essere nonostante tutto Milano, che nello scenario più favorevole potrebbe vedere una ripresa dei prezzi già alla fine di quest'anno, mentre nell'ipotesi più negativa vedrà i prezzi ripresa non prima del 2021. Oltre a Milano, le città che presentano cali dei prezzi delle abitazioni più contenuti sono Firenze, Padova e Bologna, mentre le cadute più accentuate nel settore immobiliare riguardano Roma, Bari e Catania. Nel Centro Studi Nazionale FIAIPA confermiamo il calo del numero delle compravendite, anche se questi dati li riteniamo meno negativi rispetto alle preoccupazioni iniziali. È anche vero che questo calo è un calo fisiologico naturale, perché ci sono stati due mesi di totale chiusura che hanno impedito la definizione dell'operazione di compravendita. Nello stesso tempo però riteniamo che per i valori di mercato bisogna essere più cauti, in quanto per alcune tipologie di immobili riteniamo che ci sarà una tenuta, anzi in alcuni casi addirittura un aumento del valore di mercato, dettato sia da un più 15% di richieste di prima casa registrate nel primo mese post-Covid, sia dai limiti dei mercati finanziari che hanno spostato l'asse sull'investimento immobiliare e anche e soprattutto da questo super bonus del 110% che ha consentito e secondo noi consentirà di far ripartire i mercati immobiliari, in particolare dell'usato che rappresenta il 75% delle compravendite immobiliari. Più di 15 milioni di casi del nuovo coronavirus sono stati ufficialmente registrati in tutto il mondo, tra cui più della metà negli Stati Uniti e in America Latina. Per una settimana oltre 230 mila contagi sono stati annunciati in media ogni giorno, in totale la pandemia ha ucciso più di 600 mila persone dalla fine di dicembre, l'Europa ha superato i 3 milioni di contagi, la Spagna è diventato il nuovo epicentro, mentre in Belgio tornano le restrizioni dopo l'impennata dei giorni scorsi. Intanto negli Stati Uniti restano il paese più colpito con quasi 144 mila morti. America Latina e Caraibi sono la seconda regione con più casi in termini di numero e di numeri e stanno assistendo ancora a una fase di crescita purtroppo del contagio. Restiamo all'estero e andiamo in Afghanistan, dove un gruppo di giovanissime studentesse della provincia di Herat ha deciso di costruire un ventilatore polmonare che potrebbe salvare molte vite, come ci racconta Barbara Masulli. Florence Somaia e altre quattro studentesse di un liceo di robotica della provincia di Herat in Afghanistan hanno messo insieme le loro idee e abilità manuali per realizzare questo, un ventilatore polmonare, al momento è solo un prototipo, che potrebbe salvare la vita a chi si ammala di Covid. A scuola negli ultimi tre anni, spiega Florence, abbiamo svolto molti lavori nel settore dell'agricoltura, dell'industria, della sicurezza, ma non ci eravamo mai occupate di dispositivi medici, siamo felici di averlo fatto ora. La più grande di loro ha 18 anni e la più piccola a 14. Hanno messo a punto la loro invenzione durante il lockdown con il supporto dell'Università di Harvard, utilizzando materiali facili da reperire e basandosi sul design di un ventilatore portatile sviluppato in un istituto di tecnologie del Massachusetts. Qui in Afghanistan ci sono poche strumentazioni come questa, le persone muoiono. Speriamo che il nostro ventilatore potrà essere utilizzato negli ospedali a Auspica Somaya. Il ministro della salute afghano ha fatto sapere che il macchinario verrà prima testato sui pazienti e, se sarà effettivamente funzionale, verrà usato in tutto il paese. E il risparmio sarebbe notevole considerando che un ventilatore comprato e importato dall'estero qui costa 20.000 dollari, mentre il prezzo di questo macchinario casalingo è di 700 dollari. E visto che Florence e compagne con le mani in mano proprio non ci sanno stare, hanno deciso di creare anche un altro macchinario utile, soprattutto in tempi di Covid, una specie di aspirapolvere a radiazioni ultraviolette per la disinfestazione delle superfici. Andiamo adesso in Turchia, dove tutto è pronto per la prima preghiera islamica del venerdì a Santa Sofia dopo la riconversione due settimane fa da museo in moschea. Maurizio Dischino. 18.000 agenti dispiegati, 11 checkpoint d'ingresso, elicotteri che sorvolano Istanbul in Turchia. Massima sicurezza oggi per il ritorno di Muezzin a Santa Sofia dopo 86 anni per la preghiera islamica del venerdì. Una sentenza del luglio scorso del Consiglio di Stato, infatti, ha nuovamente trasformato in moschea il monumento patrimonio dell'UNESCO, annullando il decreto del 1934 che aveva istituito un museo nell'edificio religioso sorto nel VI secolo come basilica cristiana e poi diventato moschea nel 1453 con la conquista di Costantinopoli da parte delle truppe ottomane. Siamo testimoni della storia, Agia Sofia torna alle origini, ha detto oggi un fedele musulmano caricato di retorica propagandistica dal presidente turco Erdogan, il quale ha dichiarato che la trasformazione della basilica cristiana di Santa Sofia in moschea ha realizzato il suo più grande sogno che aveva da bambino. Alla preghiera di oggi è atteso lo stesso Erdogan, il quale su Santa Sofia non ha raccolto tutti i consensi sperati dal mondo islamico. Ai fedeli è stato chiesto di portare mascherine e tappeti personali per rispettare le norme di distanziamento fisico a causa dell'emergenza coronavirus. 700 gli operatori sanitari schierati per l'evento. Papa Francesco ha telefonato al direttore della carita diocesana di Bari, Bitonto, Don Vito Piccinonna, rettore della Basilica dei Santi Medici. Quasi dieci minuti, come ci conoscessimo da sempre, scrive Don Vito su Facebook raccontando della telefonata inaspettata ricevuta ieri sera. Il 24 luglio del 1980 moriva Peter Sellers, uno degli attori comici più amati di sempre, tra le sue interpretazioni più famose, quella dell'ispettore Clouseau nei film della Pantina Rosa, ma il suo talento aveva portato a ruoli inediti, fra cui tanti personaggi come l'indiano Rundi Baxi di Hollywood Party e tre protagonisti del dottore Stranamore. E ora ritorniamo in Brasile, un paese tra i più colpiti dal coronavirus, dove un insegnante ha deciso di fare visita ai bambini chiusi in casa per l'emergenza sanitaria portando loro lo speciale kit degli abbracci. Alessandra Camarca. Il coronavirus ci ha tolto soprattutto il contatto fisico, la possibilità di abbracciarci e sentirsi vicini. Lo sa bene Maura Silva, insegnante brasiliana di Rio de Janeiro, che con le lezioni cancellate per effetto del confinamento e i bambini bloccati a casa, ha sentito il bisogno di tenersi in contatto con i suoi studenti, andandoli a trovare nelle loro case con i suoi kit di abbracci. Ma come si può far visita a qualcuno in sicurezza durante la pandemia che sta devastando il Brasile? La risposta all'insegnante brasiliana l'ha trovata proprio nei suoi kit, borse che riempie di indumenti protettivi e maschere per il viso e anche alcune caramelle per addolcire l'esperienza. Con i suoi dispositivi di sicurezza, la coraggiosa Mary Poppins di Rio de Janeiro abbraccia gli studenti mentre cerca di proteggerli dal coronavirus. Silva afferma che le sue visite a domicilio sono emozionanti per lei e per i suoi studenti. Mi dicono se è venuta a casa mia, se è venuta a trovarmi, ad abbracciarmi. È indescrivibile vedere la felicità nei loro occhi in un attimo solo con il contatto fisico e come se avessimo stabilito infinite connessioni. Il Brasile è in piena emergenza. Ieri ha superato gli 84.000 morti per la diffusione del virus e sempre ieri si sono registrati 59.961 nuovi contagi. È tutto, con questo servizio termina il nostro giornale. Il momento adesso di terza pagina. Io vi auguro una buona giornata. Arrivederci.